matrimonio là, forse e caprimonio là scusi ma tuo marito dov'è? e niente, stamantina devo portare il testo piano in braccio e... ho primi pare molto... no 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 vabbè, però questa è la cosa che ho detto ah lì se io fricato giorni e notti che ti ritrovavano eh si bene bene ho detto speriamo che la ritrovano viva perciò invece di un dopo secco da sé che è una zocca uè, una zocca una zocca, una zocca una zocca signora amice la cosa importante è l'amore guardatela che affetto ma li guardi ma li guardi ma no